o la luciadores ben ritrovati dal vostro silver siamo qui perché il tempo stringe oramai manca davvero davvero poco l'uscita di dark souls 3 probabilmente qualcuno di voi guarderà questo video quando il gioco sarà anche già uscito ma chissene noi siamo qui perché appunto mancano pochissimi giorni i conti alla rovescia si sprecano l'hype a mille tanta gente sta sbrodolando ovunque dalla voglia di giocare io ho il grosso vantaggio di essermi mantenuto assolutamente ignorante non ho voluto sapere nulla non ho sbirciato gameplay non ho sbirciato video non ho letto notizie non ho voluto sapere niente di niente e certo qualcosina all'orecchio mi è giunto notizie incontrollate però come sapete il silver non soffre della sindrome degli spoiler quindi va bene così ci stiamo dentro e cercherò di resettare il tutto prima di arrivare all'impatto con il gioco vero e proprio assaggio già avuto ad esempio quando ho fatto lo stress test ed è stata un'esperienza veramente molto molto bella ma molto particolare perché ai tempi qualcuno di voi si ricorderà nei video che ho pubblicato ho parlato di una cosa che mi dava la sensazione di essere un demon born più che un dark souls e non necessariamente la cosa è un difetto analizzando poi le cose a bocce e ferme ho avuto modo di rendermi conto che è la giusta evoluzione delle cose ci tengo a sottolineare un piccolo dettaglio allora una delle notizie più ricorrenti vuole che notizie confermate da falla from stessa dicano che dark souls 3 sarà l'ultimo capitolo della trilogia e al tempo stesso però ci sono notizie ufficiali che dicono che dark souls 3 non sarà l'ultimo dei dark souls è cominciato una sorta di ridda scatologica per andare a capire quale delle notizie fosse quella vera vi do una notizia sappiatelo sono vere entrambe la cosa sembra impossibile alcuni altri invece ci sono già sapientemente arrivati e un esempio che uso molto quando ne parlo appunto sui forum o su facebook e vi dicendo è il discorso pensatela come star wars star wars ha avuto la sua trilogia 1 2 3 ma è comunque una saga che ha avuto sette capitoli non stiamo a discutere della qualità dell'evoluzione delle cose da fan e via dicendo anche perché io star wars non l'ho mai visto lo so confesso e cioè dire c'è dei limiti quel giorno ero in bagno probabilmente proprio tutto il giorno e non l'ho visto mi dispiace al di là di questo dark souls 3 concluderà una trilogia una trilogia iniziale però questa trilogia darà il via qualcosa di nuovo ci sono già delle speculazioni sulle cose che riguarderanno dark souls 4 perché è evidente palese che se ci sarà la possibilità verrà fatto anche perché mai dark souls è un brand che vende però così dalle notizie di corridoio dalle idee che ci sono a riguardo vi posso dire che potremmo dormire sonni tranquilli se le idee vengono sviluppate decentemente non necessariamente bene avremo a che fare con qualcosa di veramente grandioso quindi ma non corriamo non corriamo troppo perché non dobbiamo andare a pensare al 4 non abbiamo ancora messo le nostre belle zampine sul 3 quindi cerchiamo di dare un freno all'impazienza e ragionare solo un secondo questo video mi serve per due cose uno per fare da punto di contatto fra quello che ho fatto in precedenza ossia quei vlog in cui vi spiegava una visuale alternativa di dark souls 2 e cercare di inserirla nel contesto delle aspettative di quello che mi attendo appunto da dark souls 3 come detto dark souls 1 è una sorta di scontro fra il bene e il male l'introduzione dell'anima qualcosa che resta dopo la morte nella nostra visuale comune c'è un al di là quindi se c'è un al di là l'anima sopravvive quindi l'anima possiamo dire che era l'anima fra virgolette del primo capitolo mentre la memoria il ricordo quello che resta al di qua è la chiave portante e la chiave di volta la chiave di lettura di dark souls 2 che ho dato io questa chiave di lettura della memoria del ricordo ha spiegato tante di quelle cose che sembravano inspiegabili ha giustificato cose che sembravano errori ma non come atto di paraculaggine attenzione è una cosa di senso compiuto io vi ricordo che ho fatto una piccola serie di vlog che sono adesso non ricordo se 7 8 comunque in totale sono 10 però due sono schippabili perché uno era un'introduzione uno era un aggiornamento ai tempi pre scolar per cui figuratevi da quanto tempo sto tirando in giro questa teoria con questo non vi dico che la mia teoria fosse quella giusta sia quella giusta sarà quella giusta no è solo un modo per dimostrarvi che se non ci sia arena su un modo di vedere comune si possono estrapolare cose molto molto interessanti la teoria appunto del ricordo se presa come chiave portante di della lettura di dark souls 2 e come detto dipanava parecchio la storia e creava suggestioni come spiegazioni che possono aprire molte porte narrative a quello che potrà essere il 3 io dal 3 cosa mi aspetto mi aspetto qualcosa di clamoroso qualcosa di rivelatore e qualcosa che al tempo stesso mi dica guarda che tu hai avuto tutto in mano sin dal principio e non te ne sei accorto io queste cose personalmente le adoro mi scatta quel vaffanculo interiore che dico cazzarola tanki ce l'ho avuto sempre lì ce l'ho avuto sempre lì e non sono stato in grado di vederlo a me piace sentirmi pistola in queste situazioni anche se devo ammettere che qualora la chiave di lettura fosse stata quella giusta quella del silver avrebbe una gran bella soddisfazione interiore nel dire che mentre 9 milioni di persone pensavano una cosa io scemo ne pensavo un'altra e sta a vedere che ho avuto anche la mia piccola dose di ragione me ne bullerò a dovere non preoccupatevi siete curiosi di cosa di sapere di cosa sto parlando va bene ci sono appunto i vlog del silver tenete conto che sono forse i primi video seri seri fra virgolette dato che c'erano molte scene divertenti anche in quei vlog corti perché duravano al massimo appunto 14 15 minuti sono stati i primi video seri che ho fatto sul canale a riguardarli ora fanno tenerezza persino a me però il messaggio arriva e ho cercato di spiegare le cose in maniera più esaustita va possibile se qualcuno di voi ve li fosse per se li fosse persi non preoccupatevi ve li linko qua sotto nella descrizione del video così potete andare a vedere la cosa dare un'occhiata e farvi un'idea magari concepire qualcosa che non avrete pensato oppure avere uno spunto di discussione per andare a vedere cosa ci aspetterà l'idea di un raccordo dovuto al ricordo a me piace un sacco anche perché fondamentalmente dark soul 2 comincia nella via di passaggio ma non è un caso è una cosa che io ho rimarcato molto di dicendo che le spiegazioni sulla teoria del ricordo erano già nel filmato iniziale una cosa che tutti guardano con attenzione la prima volta perché è una cosa meravigliosa e poi si è portati a schippare nelle run successive quando siamo convinti di sapere già tutto ci lasciamo magari sfuggire l'opportunità di riguardarlo e capire quello che ci è sfuggito perché quando l'abbiamo visto la prima volta non potevamo capirlo è un trucco molto molto divertente è una cosa un po teatrale è una cosa diciamo la regola è se c'è un fucile in scena nel primo atto sparerà nell'ultimo una cosa che ho già citato nel nella descrizione appunto di questi blog e sono sempre più convinto che sarà così quindi quello che mi aspetto sarà un rimasuglio materiale descritto in dark souls 3 giusto appunto anche la cenere cenere siamo cenere torneremo chiuderemo il cerchio il ciclo della vita il ciclo della morte sarà curioso concludere il cerchio della morte o meglio ancora il cerchio della non morte questa cosa mi affascina a livello di gameplay come detto la cosa è molto potente d'impatto a me è piaciuto molto ne sento già la nostalgia perché averlo assaggiato è stato qualcosa di al primo momento spiazzante perché mi sono ritrovato di fronte a qualcosa che mi somigliava molto a bloodborne resto comunque preoccupato per il level design perché una volta attraversato la prima volta le run successive rischiano di perdere molto sfida e interesse perché i livelli mi sembrano diventati molto molto facili aspetta aspettate molto molto facili con i souls non lega molto diciamo che rispetto allo standard della categoria mi sembra diventato più facile ossia la prima attraversata è sempre la stessa cosa sempre lo stesso incubo sempre lo stesso discorso che ogni cosa ci potrà fare del male ci potrà uccidere e moriremo mille volte ma una volta imparata sarà un rush a tutto andare quindi capite che già la seconda sarà a rischio ci sono cose molto interessanti riguardo il level design e la collocazione temporale degli stessi che potrà andare a dare spiegazioni anche su quelle cose che sembravano errori nel appunto nel secondo capitolo ma che come vi avevo detto anch'io con la mia teoria è un errore può essere un errore quando è uno ma quando sono dieci errori tutti della stessa risma allora cominciamo a pensare che la cosa sia voluta così per carità ci sta anche che siamo noi che non l'abbiamo capita o loro che si sono spiegati male però se una cosa ha motivo di essere così non dobbiamo per forza dare per scontato che sia un errore quindi io mi aspetto molto da questo in conclusione dato che poi avremo modo di parlarne io sono qui a chiedervi una cosa avete due alternative ve le chiedo appunto di scrivermele qui nei commenti fatemi sapere quello con cui volete avere a che fare preferite avere una run una blind run fatta dal silver ossia completamente alla cieca e in presa diretta nel senso che farò i video passando nelle zone la prima volta con non conoscendo niente essendo completamente ignorante di dark souls 3 o preferite attendere fra virgolette un paio di giorni in cui io magari mi faccio due personaggi con uno faccio la mia run all'oscuro di tutto e a voi comincio a giocare in una maniera un fuori più spedita e vi descrivo quello che ho già raccolto trovato e via dicendo insomma una run più saputa io una mia teoria riguardo quello che voi potreste preferire ce l'ho ma la regola non è univoca e non vale per tutti perché tante volte ve lo ricordo quando si gioca una blind run di un gioco impegnativo e soprattutto come lo faccio io che sono costretto a non fare lunghe sessioni perché non ho materiale di registrazione ma mi devo limitare a quello che può registrare la play 4 devo fare spezzoni da 15 minuti se faccio pezzi più lunghi li devo montare assemblare via dicendo e questo complica molto anche l'apprendimento tecnico del gioco quindi io mi trovo tante volte per un video a girare 15 minuti buttare via un'ora e poi non staccarmi riprendolo magari il giorno dopo quindi ci sta che all'inizio io faccia pasticci non capisca meccanismi e via dicendo la cosa può essere divertente a voi la scelta ragazzuoli io un'idea di come affrontare la cosa vi ripeto ce l'ho già fatemi sapere voi cosa ne pensate cosa preferireste vedere fermo restando che il gioco lo io l'ho preordinato nella sua versione completa quindi avremo anche dlc a suo tempo sia chiaro farò comunque la blind run fermi ho sbagliato se farò la blind run farò comunque poi una volta terminata la blind run farò comunque la run quella del new game plus diciamo e poi i dlc quindi non è che perché scegliete una cosa non avrete comunque anche l'altra certo se voi preferite una run più diciamo su cosa è fatta con sapienza dovete portare pazienza che io comunque vada in avanza scoperta con un personaggio tutto mio ripeto me lo scrivete qui sotto nei commenti o comunque sul gruppo di facebook a cui vi invito ad iscrivervi per commentare e per partecipare appunto a questi discorsi che faremo anche come apprendimento e scambio di informazioni a riguardo dark souls 3 non vi dirò che faremo una sorta di embargo delle notizie nei messaggi perché l'intento del silver sarà quello di cominciare a giocare e registrare i video frammentarli facendo tanti episodi cercheremo di mantenere più o meno la solita soglia dei 15 minuti sarà un casino perché vi ripeto non conoscendo il gioco non so dove fermarmi tra una registrazione l'altra ma cercherò di gestirla al meglio sarà complicato ma d'altronde la mia metrica di lavoro è questa quindi mi devo contentare però ecco faremo degli episodi spicci però magari io registrerò 5 episodi al giorno magari pubblicandone uno che voi vedete giustamente magari dal giorno dopo e quando voi vedrete l'episodio 1 io in realtà stavo già registrando l'episodio 10 quindi il discorso dei messaggi con rischio spoiler sarà poca cosa ripeto non interessa a me fatelo giustamente per gli altri perché non ci trovo niente di divertente nell'andare a dire hai visto questo hai visto quello che vabbè ok il gioco lo pagano tutti potete essere spietati verrete puniti non è non c'è nessun problema per questo va bene io la mia bella chiacchierata riguardo l'ho fatta ragazzuoli quindi quello che dovevi di quello che dovevo dirvi ve l'ho detto io ora aspetto di avere vostre notizie fatemi sapere quello che preferite e alla prossima volta che parleremo di dark souls 3 lo faremo col pad in mano ok alla prossima ragazzuoli ciao ciao